La carrozza della vedova Back Bict è finalmente arrivata ad Antella, pronta per essere trasformata in un nuovo spazio a disposizione della collettività. Un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana, quella del Comune Ripolese, reso possibile anche grazie al bando di Fondazione CR Firenze Spazi Attivi. Dalla possibilità di recuperare spazi non utilizzati del Teatro Comunale di Antella, dalla possibilità di avere anche spazi bistrò di ristorazione che mancavano. Potrà permettere ai ragazzi e ai giovani creativi di sperimentare nuove forme di collaborazione, sviluppando quindi la creatività collaborativa, trovandosi in un luogo che sarà aperto a loro e ai loro nuovi progetti. Un vagone modello Gabs G20 delle dimensioni di quasi 21 metri per 2,50. La reseda esterna invece potrà anche ospitare rassegne di cinema indipendente da vivere sotto le stelle. In questo stiamo cercando dei collaboratori perché il cinema è una cosa seria e quindi va affrontata in modo impegnato, ma insomma anche con divertimento, ma ci vogliono delle finanze e delle collaboratori giusti.